Musica Ben ritrovati e benvenuti ad una nuova puntata di Terzo Millennio, la nostra rubrica che abbiamo dedicato all'arte, alla musica, alle ultime tendenze. Come vi abbiamo già anticipato nelle precedenti puntate questa nuova edizione ci porterà spesso fuori dai nostri studi per comunque farvi incontrare delle nuove tradizioni, nuova gente, insomma per un calderone di idee dedicato solo ed esclusivamente per voi. Oggi noi parliamo di arte perché può essere definita arte l'arte teatrale e lo facciamo in compagnia di due attori, non solo cinematografici ma anche e soprattutto teatrali. Loro sono Giovanni Maria Curro, ti ringraziamo di essere qui. Grazie a voi. E Mauro Failla. Grazie. Allora dicevamo voi siete attori cinematografici e teatrali, avete fatto molte delle vostre esperienze fuori Messina, poi nel 2012, vediamo se ho studiato bene, nel 2012 decidete di mettere a disposizione le vostre esperienze a disposizione della nostra città, facendo un'associazione culturale, costituendo un'associazione culturale, il clan degli attori. Perfetto. Giusto? Bene. Sì. Come nasce quest'idea? Allora l'idea nasce intanto dal portare avanti il nostro mestiere. Una volta l'attore studiava, finiva all'accademia piuttosto che alla scuola di recitazione di turno e aspettava di essere chiamato. Adesso non funziona più tanto così. E quindi bisogna che gli attori si mettano in movimento per far sì che il lavoro venga. Non è più come prima. Come prima. Quali sono gli obiettivi della vostra associazione? Voi di cosa vi occupate? A parte ovviamente dei laboratori teatrali che ho visto che fate, ma cos'altro? Ci occupiamo di tutto. Un bel po' di cose. Produzione teatrale. Quindi facciamo degli spettacoli teatrali. Facciamo nella nostra nuova sede, perché tu hai parlato della costituzione, dell'associazione, il clan degli attori, ma da due anni dobbiamo dire che è nata una nuova sede che si chiama Clan of Teatro, che è un vero e proprio teatro, anche se off, quindi alternativo, in cui ci sono delle programmazioni teatrali con degli spettacoli che vengono da tutta Italia e fra poco presenteremo la nostra terza stagione. Quindi facciamo spettacoli teatrali, laboratori per grandi, per bambini e questo. Lo spazio nasce come un'esigenza che abbiamo sentito insieme. Da tempo ci avevamo già ragionato su e poi per motivi economici ovviamente avevamo sempre procrastinato, insomma messo un attimo da parte l'idea. Avevamo, eravamo in una sede che era un appartamento grande in cui facevamo, portavamo avanti la nostra attività. Un giorno ci siamo insomma detti che era arrivato il momento di fare questo passo e lo abbiamo fatto. Abbiamo pensato in uno spazio, abbiamo individuato un posto in città che potesse in qualche modo collimare con le nostre richieste e abbiamo individuato quindi una vecchia fabbrica dove si riparavano motori agricoli. L'abbiamo individuata, affittata, totalmente risistemata, riallestita, ristrutturata, con le nostre mani e con l'aiuto di persone che sono a noi vicine e anche dei ragazzi che hanno seguito i laboratori con noi, insomma che con molto affetto e con molta passione e dedizione si sono uniti a noi. Abbiamo sistemato quindi questo posto e allestito un vero e proprio teatro. Dico vero e proprio teatro perché è un teatro in piccolo, ha una settantina di posti circa, ma quello che subito ha stimolato in noi un'ulteriore forza e voglia è proprio quella di mettere in piedi una stagione teatrale. E con ulteriori forze abbiamo allestito questa stagione teatrale che è andata molto bene, insomma la città ha positivamente accolto questa nuova realtà che si affiancava ad alcuni già presenti e da lì in poi abbiamo cercato di continuare, non senza delle grandi difficoltà ovviamente. Certo legate magari al nostro territorio perché comunque voi arrivate nella nostra zona, proprio su Messina, nel momento in cui magari per il teatro devo dire che non va granché bene, perché prima Messina, dai ricordi che comunque io ho o che mi dicono, Messina negli anni 50-60 il teatro era quasi il top, proprio il fiore all'occhiello della città di Messina, dove comunque il teatro era frequentato da tantissime persone. Oggi in realtà non è più così, soprattutto nelle nuove generazioni. Quindi la vostra è stata quasi una sfida, no? Non proprio, dai, anche perché noi non ci riteniamo, non siamo un teatro istituzionale, quello che potrebbe essere, visto che è ormai rimasto l'unico, il Vittorio Emanuele. Quindi noi siamo alternativi al Vittorio Emanuele. Gli spettacoli che si possono vedere nel nostro spazio sono assolutamente spettacoli che al Vittorio Emanuele, ma neanche alla Sala Lodamo si vedranno mai. Sono spettacoli di nuova drammaturgia, che non entreranno mai nei circuiti istituzionali. Quindi per questo il teatro off, come ce ne sono tanti a Milano, a Roma, in tutte le città d'Italia, i teatri off ospitano delle cose che sono chiuse agli spazi istituzionali. Capisci bene che questa cosa è molto interessante, perché la vera cucina, la vera sperimentazione non si fa nei teatri grossi, ma si fa in questi spazi piccoli. Abbiamo avuto modo di ospitare personaggi illustri del teatro, premi Ubu, come Roberto Latini, come Fabrizio Ferracane, che adesso sta girando un film con un bell'occhio, ma ha fatto altre cose. Lucia Sardo. Lucia Sardo. Quindi ci sono personaggi importanti con dei testi, degli spettacoli che di solito non si vedono nei teatri tradizionali. Tu prima dicevi che la città ha risposto particolarmente bene a quello che voi fate, però ci sono stati anche dei problemi. A cosa ti riferivi? Ha risposto bene nel senso che è stato accolto molto positivamente l'idea comunque di due imprendiattori, nel senso che non faremmo gli attori, ma in questo caso siamo diventati una sorta di imprenditori di noi stessi. Perché poi in realtà non è qualcosa che può essere commercializzabile, però in realtà quello a cui teniamo maggiormente è portare avanti ciò in cui crediamo, quindi la nostra attività, l'arte teatrale. E quindi è stato molto positivo perché abbiamo avuto tantissimi consensi, tantissime pacche sulle spalle dicendo ben fatto, avete fatto una bella cosa, andate avanti, continuate. Certo, da qui a farlo realmente si incontrano alcune difficoltà, ecco perché. Che non sono solo di ordine economico, comunque che riguardano soltanto l'aspetto dell'approvvigionamento economico di questa cosa, ma anche e soprattutto delle energie che noi abbiamo profuso e continuiamo a approfondere giorno dopo giorno, che sono tante, non avendo poi chiaramente disponibilità economica per poter in qualche modo demandare ad altri, anche se ci riusciamo, nel nostro piccolo cerchiamo insomma di… Ci sono tutti i nostri allievi, questi allievi ci danno la mano sempre in tutte le… Che ringraziamo tantissimo in questa sede e anche dovunque andiamo, insomma li ringraziamo perché sono… Gli amici, fratelli, familiari, figure. Sì, sono sempre presenti e quindi è questa, diciamo i due aspetti, comunque siamo felici, contenti ovviamente di fare ciò che stiamo facendo, perché ci crediamo moltissimo e per noi è come gli innamorati, l'innamorato lo fa indipendentemente da quello che poi riceve. Certo, sì, questo è vero. Di cosa si occupano? Allora, ai vostri laboratori, voi fate laboratori teatrali, fare anche edizione, di recitazione e quant'altro, chi può partecipare a questi laboratori? Praticamente tutti, perché abbiamo un primo laboratorio rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, che è condotto da Eleonora Bovo, una bravissima attrice, ma anche insegnante di teatro, di recitazione. Arte terapista anche, quindi lavora con i bambini. Lavora con i bambini molto bene e questo è il primo. Poi c'è un secondo laboratorio che va dagli 11 ai 16, 17, è condotto da Moni Alfieri, un'altra attrice molto brava. Poi c'è quello dei grandi, per così dire, che seguiamo io e lui, io e Mauro. E da quest'anno abbiamo, la novità di quest'anno è proprio questa, un over 50, che abbiamo chiamato Generazione X, perché il nostro laboratorio è abbastanza, noi lavoriamo molto con il corpo, a parte l'edizione, tutta la cosa tecnica e la recitazione, lavoriamo molto con l'espressività del corpo e quindi c'è abbastanza attività fisica. E molte persone che sono vedute negli anni dicono, ma io non ce la faccio fisicamente. Quindi questo dedicato agli over 50 è un po' più dolce. È più dolce, ma è un'altra cosa perché è praticamente finalizzato direttamente alla messa in scena di uno spettacolo, quindi diciamo che è più pratico che teorico. Non che il nostro sia teorico, c'è la parte teorica che è importante e poi c'è la parte pratica. Però questo qui è più indirizzato alle persone. Aggiungerei anche che questo lo abbiamo visto perché era stimolante l'idea di poter lavorare con delle persone che comunque hanno una esperienza di vita maggiore, perché hanno vissuto un numero di anni maggiore, quindi nella loro valigia di vita hanno chiaramente più esperienze. E questa cosa ci stimolava moltissimo di confrontarci in un'altra maniera con delle persone che vogliono fare un laboratorio teatrale e quindi comunque da quello si parte, soprattutto anche con chi può apportare all'interno del laboratorio la propria grande esperienza di vita. E questo noi due insieme a Domenico Cucinotto del Tattore Naviganti, con i quali da tempo collaboriamo, che sono degli amici e con i quali condividiamo anche un percorso artistico, abbiamo deciso di portarlo avanti insieme. Io considero i bambini il nostro futuro, quindi sono una parte importante di noi. Sì, lo sono, certo. Come si relazionano loro a questi laboratori teatrali? Sì, sì, vai. No, perché i bambini è una cosa importante perché si forma il futuro del teatro, non soltanto del teatro di cui vanno a teatro, quindi il pubblico, ma anche di chi lo farà il teatro. Perché io penso un adulto sceglie di seguire un laboratorio, no? Il bambino molte volte è stimolato dal genitore, sai perché magari non segue il laboratorio, poi in realtà non si sa se a lui piace oppure no. Infatti le nostre insegnanti sono molto bravi perché soprattutto Eleonora che lavora con i più piccoli, perché attraverso naturalmente il bambino, attraverso il gioco, introduce alla questione teatrale che è anch'essa un gioco poi alla fine. Quindi sicuramente il laboratorio che segue il bambino non è quello dell'adulto, ma parte tutto dal gioco. Fermo restando che il laboratorio degli adulti, durante le lezioni dei laboratori, si gioca. Come dico sempre io e anche come diciamo sempre noi, il gioco è fondamentale, è importante e bisogna farlo bene, come lo fanno i bambini quando vanno all'asilo, che giocano, quello è il loro mestiere in quel momento e quindi lo fanno in maniera molto seria, molto attenta. E quindi anche per gli adulti si parte dal gioco, ma è inutile giocare se poi ci sei e non ci sei. Cioè se giochi, giochi. Giochi, certo. Al 100% e sei dentro. Quindi se stai giocando a fare il muratore, in quel momento sei un muratore. In tutto e per tutto. Non fai finta di essere muratore. Certo, certo. Cosa vi manca della vostra precedente vita? Perché voi avete vissuto le vostre esperienze su Roma. Anche. Facendo l'attore, sia cinematografico, teatrale, so che avete fatto pubblicità, avete fatto di tutto. Un po' di cose. Cosa vi manca? Ma in questo momento a me non manca perché vedo personalmente, adesso questa è una domanda personale praticamente, personalmente vedo la vita che sto conducendo in questo momento come un'evoluzione. Quindi non mi manca quello perché quello lì fa parte di quello che c'è adesso, è la base di quello che c'è adesso. Quindi è un'evoluzione. Di mancare non mi manca. Forse, certo, qualche anno in meno mi farebbe comune. Ma quello insomma, purtroppo non si torna indietro. Bisogna vivere bene il presente. No, forse meno male. Per certi versi anche, infatti grazie a Dio. Forse meno male. Per quanto mi riguarda, non credo che ci sia qualcosa che realmente mi manchi, non qualcosa insomma di specifico. Poi per carattere cerco sempre di colmare comunque ciò che mi manca. Nel senso che cerco di perseguire o comunque seguire un sentiero, una strada che in qualche modo mi porti ad ottenere in qualche modo ciò che mi piacerebbe, gli obiettivi che vorrei insomma raggiungere, che mi pongo. Quindi lì a di massima mi sento di dire che non è una questione di mancanza. Mancanza, più che altro forse alcune scelte fatte in passato, adesso alla luce di come sono andate poi le cose probabilmente le avrei operate in maniera diversa. Ecco tutto qua. Mi manca più che altro l'idea di poter in questo momento agire in quella fase della mia vita, ma in questo momento va bene così, come deve andare. Io credo che quelle siano delle fasi che attraversiamo tutti quanti, ed è dettato dalla maturità che raggiungiamo. Certo, assolutamente. È chiaro che oggi abbiamo una certa età, probabilmente una situazione vissuta 10-20 anni fa l'avremmo vissuta in maniera diversa con la maturità di adesso. Certo, con il senno di poi è facile un po' tutto, no? Sì, 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 anche alle scelte artistiche chiaramente mi riferivo a quelle. Quindi magari, non lo so, fermo l'estando che comunque adesso, in questo momento, quello che maggiormente mi piace fare lo sto facendo. Cioè, tutte le energie le stiamo mettendo in questo e spero che si percepisca dall'esterno, dico. Non faremmo quello che facciamo. Chiaro, sicuramente. Senza una grandissima passione, perché non c'è un… queste cose o si fanno per soldi o si fanno per passione. Soldi non ce ne sono. Non è questo il caso. Non ce ne sono, c'è una grande passione e basta in questo momento. A proposito di passione, che cos'è per voi fare l'attore e adesso insegnare a fare l'attore, a diventare attori? Allora, intanto io voglio mettere in chiaro una cosa, perché insegnante è una parola molto grossa, perché per insegnare bisogna avere una testa tanta, una cultura… Non è detto proprio una testa, ma ci sono insegnanti… Sì, no, infatti io sto parlando, secondo me, come dovrebbe essere realmente un insegnante. Un insegnante di ricettazione dovrebbe avere delle nozioni molto profonde e una cultura anche di vita molto forte. Non voglio dire che io non ce l'ho, c'ho la mia, nel mio piccolo, però non ci definiamo, questo lo posso dire anche a nome suo, perché lo ripetiamo sempre ai nostri ragazzi, non ci definiamo dei maestri o degli insegnanti, siamo soltanto degli attori che hanno una certa età, non siamo vecchi, ma non siamo neanche giovanissimi. Abbiamo la nostra esperienza e quella… abbiamo scoperto che riusciamo a metterla al servizio di chi questa esperienza non ce l'ha. E quindi è un trasferimento di esperienza, anche perché poi durante i laboratori inevitabilmente l'attore si nutre di vede, guarda, ruba, movimenti, gesti, modi di essere. E quindi inevitabilmente il ragazzo o la ragazza che viene davanti a noi a fare delle cose ci danno delle cose anche loro. Credo che questo comunque sia in generale, perché ho forse chi ha questa predisposizione, io molte volte cado in alcuni silenzi e per molti sono, diciamo, guarda, sta in silenzio in quell'angolo, in realtà io in quel momento sto caricandomi perché sto assorbendo tutto ciò, quindi in realtà questo avviene anche in altre circostanze, non soltanto come attore, cioè il fatto di acquisire dagli altri qualcosa, secondo me, lo facciamo quasi tutti. Però noi attori abbiamo, che lo utilizziamo poi, per la nostra professione. Noi lo utilizziamo perché diciamo che quello che passiamo è la capacità di lavorare con le emozioni, con le nostre emozioni. È ciò che abbiamo imparato ed è l'esperienza che passiamo. Il nostro laboratorio si chiama emozioni proprio per questo, perché mira a, in qualche modo, mettere in azione tutte quelle emozioni che sono dentro di noi e che sono il motore che ci permette comunque di vivere tutti i giorni della vita. Perché noi crediamo in un teatro in cui sulla scena si sia assolutamente naturali esattamente come si fanno le cose nella vita. E quindi è questo, diciamo, il nostro intento, l'idea di fare il laboratorio è proprio questa. Cioè una zona in cui, tutta nostra, ovviamente, nostra e delle persone che condividono il percorso con noi, in cui riuscire a innescare, ad accendere alcuni degli interruttori che sono presenti dentro di noi e in questo modo, insieme agli altri, trovare una strada attraverso quelle che sono le nostre direttive, più che altro inviti a proseguire su quella strada, cercando di arrivare realmente all'essenza di ciò, in chiave artistica ovviamente. Chi volesse intraprendere questo percorso per poi magari proseguire o comunque volesse adesso iniziare i vostri laboratori, cosa dovrebbe fare? Telefonare e iscriversi? Facilissimo, semplicissimo. Sì, basta contattarci anche solo per provare a fare il laboratorio perché in realtà il laboratorio si chiama appunto, cioè è un laboratorio di avviamento alla recitazione, quindi spazio scenico, cioè lo spazio, il rapporto con lo spazio, la consapevolezza di esso, il rapporto con il partner e l'approccio a poco a poco fino ad arrivare ad avvicinarsi allo spazio scenico, quindi al palco. Alcuni lo fanno proprio perché magari vogliono in qualche modo seguire questa strada, voglio fare l'attore, voglio provare a fare l'attore, altri perché magari vogliono stare meglio in mezzo agli altri, conoscere se stessi e quindi attraverso se stessi conoscere meglio gli altri, altri perché vogliono soltanto, magari ci è capitato più di una volta, delle persone che lavorano magari in delle aziende, devono parlare davanti a un parterre di persone e hanno difficoltà, questo ti permette comunque in qualche modo di eliminare quelli che sono i tuoi limiti, quelle barriere ed essere più sicuro di te stesso durante l'esposizione delle cose. Sì, anche perché comunque sono delle cose che servono anche in altri settori. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono i congressi che possono essere congressi medici, insomma, i convegni, e quindi telefonare in teatro, al clan of teatro, via Trento numero 4, Messina, e noi, e si può visitare il nostro sito internet, sì, www.clandigliatori.it, e contattarci e avete tutte le informazioni che volete. Noi saremo assolutamente felici. Assolutamente. Bene, l'ultima domanda perché siamo purtroppo alla fine del nostro tempo, velocissimamente la risposta. Programmi per il futuro? A parte i laboratori. Stagione teatrale, laboratori, adesso il 18, giovedì 18, presentiamo la nuova stagione teatrale. Sì, ti invitiamo, insomma, in diretta, invitiamo tutta la città alla conferenza stampa che sarà da noi alle ore 19, in teatro da noi. Programmi per il futuro, beh, sono tanti e belli, nel senso abbiamo uno spettacolo che metteremo in scena noi, la nostra produzione per teatro ragazzi e famiglie, che debuterà a fine anno, sì, a dicembre, e a gennaio, insomma, tra dicembre e gennaio saranno le repliche. Una produzione nuova, clan degli attori, targata da clan degli attori, con la regia di Giovanni, un testo scritto da Giuseppe Rimatea e Giovanni. In scena ci saremo io e altri due attori, Domenico Ucinotta e Alessio Bonafini. una nostra produzione nuova, abbiamo in cantiere un progetto piuttosto ambizioso, del quale ancora non possiamo dire nulla solo perché in realtà non ci piace dire alcune cose se in realtà non abbiamo poi la parte, come dire, già la base da cui partire. Abbiamo al momento definito alcune cose? Allora, magari facciamo un'altra puntata e ci racconterete questo nuovo... Volentieri, molto volentieri. Assolutamente. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie a voi. Come ho detto prima, siamo a vostra piena disposizione, qualora volesse raccontarci ancora qualcosa che riguarda il vostro teatro, quello che voi in realtà fate. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre su Termedia, canale 112, subito dopo il Tg delle 14. Vi ricordo la nostra mail terzomillennio.it, potete anche scriverci o mandare un messaggio al 346-7135-700 per venirvi a raccontare in puntata. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.